Tante persone, tante persone, però io ero un po' di anni che mi avrebbe fatto piacere fare qualcosa per questa città, perché io sono doligiana, però diciamo che stavo preparando uno spettacolo, via la verità, un po' per la festa delle donne, che chiamassero un po' tutte le artiste della musica italiana. Quando mi ha chiamato Angelo ho detto vabbè dai, racchiudiamo, iniziamo da qua. Posso lasciarti la parola? No, mi dico che io ringraziamenti perché oltre a me, che mi ha chiesto un po' di violenza in città c'è veramente tantissima gente, più di quanto forse possiamo anche immaginare buona parte oggi è qua e attraverso l'ora dal mio ringraziamento anche a chi non è qui oggi, ma che voglio chiudere un po' in positivo, ha permesso quest'anno di portare tante donne per mano fuori dalla spera della violenza. Abbiamo visto la settimana dell'antiviolenza con un po' di numeri positivi, 33 donne che a Lodi, non al Tome, non al telegiornale, sono sempre cose che ci fanno piacere, non guardassero la nostra comunità ma la riguardano in una maniera drammatica, davvero. Per queste 33 donne dopo solo dieci mesi dall'inizio di un progetto che è partito a gennaio di quest'anno, possono dirsi davvero fuori dalla spera della violenza con una nuova vita, una nuova casa, una separazione definitiva per loro, per i loro figli. Altre donne che hanno trovato lavoro, attraverso il lavoro, l'indipendenza e quindi la possibilità di uscire di casa, sono 103 per le donne che quest'anno hanno seguito il percorso del centro antiviolenza e che sono ancora in cammino per uscire da questa cosa. Quindi i giornalati che hanno parlato di oggi servono anzitutto a farci rendere conto che questa cosa è nella nostra città, a fare in modo che se ci capita qualche amica, per cui abbiamo solo il sospetto, che ci sia qualcosa che non va, possiamo dare delle 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 del centro antiviolenza, delle delle di rivolgersi in comune, in un qualsiasi punto di ascolto in città, ma soprattutto sapere che le giornate come oggi contribuiscono a far si che queste donne trovi una mia riuscita. Quindi ancora grazie a Manuela che ci ha emozionato nel pomeriggio per la nostra catástrofe della musica.